Parrucchiere, truccatore, possiamo dire che ho una vita nel cinema? Anche, sì certo, perché ho 4 anni che sto qua. Possiamo dirle che forse sono meno quelli che non hai truccato che quelli che hai truccato? Mi sono passati quasi tutti, mi sono passati quasi tutti sotto la mani. Da piccoli a grandi a importantissimi italiani e stranieri, francesi, americani, inglesi, tedeschi. Guarda, per brevità ce li fai 200 nomi? 200 sono un po' troppi, ne faccio 5, 6. De Niro, Nicholson, Cacino, Bob Hoskins, Anthony Hopkins, francesi, Riverneier, Delon, italiani, Mastroianni, Giannini, tutti elettrici o no? Sordi, Vincisi, Gasman, Totò, 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 Totò. Tu fai parte di quella categoria di persone che non è davanti all'obiettivo, è dietro all'obiettivo. Che contributo dà un premio come questo a un insieme di categorie che contribuiscono? È una gratificazione per il lavoro fatto, per quelli che stanno dietro alla macchina e quelli che stanno dietro, dietro, dietro alla macchina. Gente che lavora nei laboratori, lavora nelle sartorie, lavora nelle parruccherie, lavora nelle calzolerie, che fanno cose per il cinema che servono e si vedono poi sullo schermo. È giusto premiare quella gente che fa queste cose che permettono agli spettatori di godere di un film. Grazie. Grazie. Grazie.